Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. In consiglio comunale inizia il dibattito che dovrebbe portare all'approvazione del bilancio preventivo 2024-2026 e si prevede un dibattito complesso. Sono infatti 383 gli emendamenti presentati dalle minoranze di centrodestra e di Alternativa per Piacenza. L'obiettivo della Giunta è di approvare il bilancio entro il 31 dicembre 2023. Ma il dibattito si è fatto fin da subito molto acceso. Il primo a prendere la parola è stato Luca Zandonella della Lega che ha criticato la Giunta per le tante assunzioni di dipendenti comunali a fronte di numerosi incarichi esternalizzati. Se c'era bisogno realmente di aumentare così tanto le assunzioni, visto che al momento di funzionalità e di risultati migliori pare non ce ne siano, e le incarichi esterni affidate nel corso del 2023 sono stati veramente numerosi. Ingiustificato l'aumento dell'IRPEF secondo Massimo Trespidi. Quando avete preso in mano questo comune nel 2022, nel calcolare le entrate del 2023, che sono di 82 milioni rispetto ai 76 del 2022, non avete tenuto conto di questo scostamento che già prima di aumentare l'IRPEF era uno scostamento di 6 milioni di euro. Vuol dire che non c'era bisogno dei 4 milioni e mezzo di aumento dell'IRPEF. Questa è la Giunta del Tassa e Spendimale, ha detto Nicola Domeneghetti di Fratelli d'Italia, il quale ha avanzato anche alcuni dati sulla tassazione. scientificamente, con rigore, dove siamo oggi, dopo un anno e mezzo di Giunta Tarasconi, con tutti gli scellerati aumenti cui abbiamo assistito, ebbene io ho costruito un indicatore per confrontarlo con altri capoluoghi comuni, capoluoghi di provincia intorno a noi, parlo di Parma, Cremona e Lodi. Per questo indicatore, che possiamo chiamare l'indicatore della pressione fiscale, il residente piacentino è quello vessato di più. Ma di quanto? Allora, del 47% in più del cremonese, del 41% in più del parmigiano e del 20% in più del lodigiano. Ecco, io non so se si riesce a percepire realmente la portata di questi indicatori. A difesa della Giunta ha preso la parola Boris Infantino, di Piacenza Coraggiosa, che ha criticato Domeneghetti. Faccio rilevare che, ad esempio, Parma ha un'addizionale IRPEF massima dello 0,80 per tutti i livelli di reddito, quindi non mi riesco a spiegare come sia possibile che noi, avendo un'aliquota un po' più bassa, non così tanto più bassa, abbiamo una differenza di pressione fiscale così elevata. Infine, Andrea Fossati, capogruppo del PD, ha ricordato quanto il bilancio pensato dalla Giunta Tarasconi sia ambizioso. La prima evidenza che pongo è quella della volontà politica di questa amministrazione di portare ad approvazione il previsionale 24-26 entro il 31-12 di quest'anno. Poi si dirà, come è stato già ripetuto dai colleghi, esiste una norma di legge, esiste il 151 del testo unico ente locali, che l'ho sempre previsto, però detto termine è stato conseguentemente negli anni disatteso. Prossima seduta del Consiglio Comunale, mercoledì prossimo, 13 dicembre. È tutto, a te la linea.